Giovedì 23 febbraio, ben ritrovati con il nostro appuntamento quotidiano con la Rassegna Stampa. Partiamo dalle prime pagine nazionali che anche quest'oggi ci restituiscono il racconto dell'ultima giornata, in particolare in primo piano sul Corriere della Sera l'attacco hacker che l'Italia ha subito nelle scorse ore. Pirati informatici vicini a Mosca hanno colpito ministeri e aziende. Poi andiamo in Ucraina, armi a Kiev, i distinguo della Lega e ancora la politica internazionale asse Putin-Xi Jinping. Biden dice difendiamo i confini est della Nato, mentre Meloni ancora una volta ribadisce dicendo noi affidabili. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi frena, la tensione resta, sono offeso, ha detto. E poi la fotonotizia dedicata alla morte della moglie di Lino Banfi, l'addio alla moglie Lucia, un amore lungo 70 anni. La donna era da tempo malata di Alzheimer, la figlia Rosanna appunto dà la notizia attraverso i social e dice ciao, buon viaggio. Andiamo adesso sulla cronaca, ancora sul Corriere della Sera, in particolare il delitto del 27enne di Pesaro, le coltellate, la fuga, il killer di Pierpaolo preso in Romania. Infine l'omicidio che avvenne all'omicidio di Pamela. La madre dice bene l'ergastolo, ora gli altri mostri condannato all'ergastolo osegale. L'omicidio avvenne a Macerata. Andiamo adesso sulla prima pagina di Repubblica. Qui si parla della guerra in Ucraina, un anno dallo scoppio della guerra. Infatti il titolo scelto da Repubblica, un anno di guerra in Europa. Ecco, vediamo forte la fotografia, le fotografie scelte da Repubblica. La stessa donna un anno fa in Ucraina durante la guerra, invece adesso Olena, così si chiama, vive in Polonia. Ecco, questa è una fotografia di questo febbraio. Mosca difende Berlusconi, ancora il titolo di Repubblica. La portavoce di Lavrov critica le frasi di Zelensky sull'ex premier, attacco hacker russo dopo il viaggio a Kiev di Meloni, jet, gli alleati frenano. E poi ancora l'inviato di Xi Jinping incontra Putin aperti al dialogo. Infine il Cremlino cancella la sovranità moldava e sale la tensione anche per la Georgia. Quindi, insomma, si parla ancora di politica internazionale in primo piano sulla Repubblica. Andiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi ci spostiamo sulle notizie locali. Redditi da Serie B, il titolo di apertura del quotidiano. Lo studio dice che a Bari i dipendenti sono pagati un terzo rispetto a quelli di Milano. Decreto ILVA varato dal Senato e poi accordo fatto per Ferro Sud. Questa è una notizia che riguarda il lavoro in Basilicata. Tagliani all'ONU, vogliamo una pace giusta, quindi anche qui si parla di guerra. Putin ringa la folla e minaccia la Moldavia. Altre armi a Kiev, la Lega opta per la violenza. E poi l'iniziativa, la città che sarà diverse ipotesi di sviluppo a confronto. A Bari appunto si è parlato del futuro della città in un forum organizzato proprio dalla Gazzetta del Mezzogiorno. E poi la cronaca, il gelo di Santeramo dove fu trovato il corpo carbonizzato di una donna. Nessuno crede al suicidio. Proseguono senza sosta le indagini su Michel e poi anche qui si parla dell'addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Le pagine adesso locali della Gazzetta del Mezzogiorno. Partiamo da quella dedicata alla regione Basilicata, quindi Matera e Potenza. Il lavoro c'è qui in primo piano. Ferro Sud in salvo i 64 operai. C'è l'accordo con la Mermec. È stata siglata l'intesa tra regione e sindacati. Il commissario straordinario è l'azienda che sta quindi perfezionando l'acquisto dell'azienda. Ecco infatti la fotonotizia dedicata anche appunto al titolo di apertura. E poi una storia sulla prima della Gazzetta Lucana, dalle giostre di famiglia alle passarelle di moda. Oggi Raffaella guida i bisonti in giro per l'Italia. Veniamo adesso in Puglia. Partiamo dalla provincia di Bari, quindi dal capoluogo di regione. La cronaca, spaccate in centro, denuncia il CA in calo. Il questore dice si tratta di Balordi. Nel Mirino, i locali del quartiere Murattiano, quindi siamo in pieno centro città, la polizia sulle tracce di un senza fissa dimora. Quanto è difficile ristrutturare? Mi hanno rovinato la casa. Pratiche scorrette, aziende nel Mirino che replicano pronti a una soluzione. Quindi l'edilizia ancora in primo piano. Andiamo nella provincia Bat, quindi a nord di Bari, dove ritroviamo la cronaca. L'omicidio di Michele Cilli, lo ricorderete, il 24enne di Barletta, scomparso da un anno. Si indaga appunto per omicidio. Il corpo non è mai stato ritrovato. L'accusa chiede 26 anni per i due imputati. Si tratta di Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, il primo imputato per l'omicidio e poi il secondo imputato con Sarcina in concorso per la soppressione del cadavere. E poi ancora un incidente sul lavoro è successo in un marmificio di Trani. L'operaio 66enne è rimasto gravemente ferito. La provincia di Foggia adesso ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno. Un piano per il quartiere Ferrovia, obiettivo assicurare sicurezza e decoro. Lavori in strade e marciapiedi, migliorerà la videosorveglianza e l'arredo urbano. Poi ci spostiamo in Salento, quindi le province di Brindisi e di Lecce. Anche qui ritroviamo la cronaca, abusi sessuali su una ragazzina per il fatto è stato condannato il padre dell'amica. Infine la sanità, Brindisi, 20 mesi d'attesa per l'ecodoppler. Un anziano utente è costretto a rivolgersi a pagamento ai privati. E chiudiamo le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno con la provincia di Taranto. Emergenza Parcheggi, tre anni per risolvere i problemi del centro. Ritroviamo qui un'intervista all'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno che dice puntare sulla mobilità alternativa più che sulla ricerca di nuovi siti. Cambiamo adesso quotidiano. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, quindi ancora le notizie che riguardano la Puglia. L'intervista a Signer, Bari poco sicura, dice è il questore di Bari, alza la guardia, c'è bisogno che l'agente denunci, ha detto a proposito dell'escalation della microcriminalità in città. Ecco, lo vediamo in foto. Giovanni Signer, questore di Bari. La politica poi, autonomia, primo round a De Caro. Il sindaco di Bari, nonché presidente Anci, ieri aveva scritto al ministro Calderoli che ha appunto accolto la sua istanza. Conferenza unificata, quindi rinviata al prossimo 2 marzo. E poi domenica si va al voto per le primarie del PD che si aspetta 65.000 elettori in Puglia aperti 365 seggi. Le pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Ecco, un anno fa lo scoppio della guerra. Da Bari a Lecce in piazza per fermare le bombe. Domani in via Sparano, la cerimonia della comunità di Kiev. Sabato poi sono previsti due cortei di protesta. Continuiamo a sfogliare il Corriere. Ecco ancora la notizia di politica. Il Sidi Calderoli a De Caro, rinviata alla conferenza unificata a proposito dell'autonomia. E poi l'intervista al questore Giovanni Signer. Furti, spaccate e baby gang. Noi ci siamo, ma mancano le denunce, appunto, dice Giovanni Signer. La Repubblica di Bari adesso. In primo piano, anche qui, ritroviamo il lavoro con una delle storiche avvertenze che riguardano la città, i lavoratori dell'Hotel Palace. L'avvertenza sembra essere a una svolta dopo l'offerta di un big straniero. La struttura è chiusa dal gennaio del 2022. Altre società, anche pugliesi, si erano affacciate, ma colloqui e trattative non erano mai andati in porto. L'iniziativa è da 10 milioni sulla riqualificazione, la gestione e la locazione. Ecco, appunto, i clan dei cani sciolti, dopo le spaccate, passano all'incasso. Si torna a parlare della microcriminalità a Bari. Ieri, gli ultimi episodi di spaccate in centro. Le pagine interne. Crack fusillo. Processo a rallentatore. In due anni, sentito solo un testimone. Le udienze in cui sono coinvolti anche i vecchi vertici della Popolare di Bari si sono arenate. L'ultimo rinvio è stato chiesto dai difensori per l'imminente trasferimento della giudice Cagliadi Pinto, che dal primo marzo passerà alla Corte d'Appello. Ecco ancora la trattativa sull'Hotel Palace da 10 milioni di euro per riaprire appunto lo storico albergo barese. Si tratta di un gruppo internazionale che si è fatto avanti con la Saiga, proprietaria dell'immobile, proponendo la ristrutturazione dello storico hotel in centro. Cambiamo ancora quotidiano, ci spostiamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Partiamo da quella lucana. Basilicata, Ferro Sud, accordo storico. Quindi anche qui si parla di lavoro. Fissate le modalità di assunzione tra il 2003 e il 2024 dei 64 dipendenti in organico. Mentre sulle pagine pugliesi dell'edicola del Sud ritroviamo la notizia, le ultime notizie che riguardano l'exilva. C'è il sì al decreto, dunque ci sarà lo scudo penale. C'è l'ok del Senato alla norma per risanare i conti dello stabilimento e per questo protestano gli ambientalisti. E chiudiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Sole 24 ore. Il calo dell'energia raffredda l'inflazione ma crescono i prezzi del largo consumo. Il titolo di apertura del quotidiano economico. L'indice scende dall'11,6 al 10% annuale, più cari i beni ad alta frequenza d'acquisto. E poi bonus e imprese e spazi di acquisto per 54 miliardi. Dunque si torna ancora a discutere delle agevolazioni edilizie. E noi ci fermiamo qui per questa rassegna stampa e vi ringraziamo per averci seguito.